Per chi ha scelto di entrare in politica? Questa è una scelta di tanti tanti anni fa. Passione civile, idee assaporate anche nel contesto familiare, anni di grandi cambiamenti come erano anche gli anni 60, e così, ma ancora a 17 anni presi la prima tessera di un partito. E tutt'oggi è convinto di questa scelta che ha fatto? C'è stato un momento in cui ha avuto un tentennamento? No, io ho creduto e continuo a credere nelle idee che sanno coniugare l'economia di mercato con la necessaria solidarietà che mantiene coesa una società. Ho continuato a credere in queste idee che sono state definite anche dell'economia sociale, di mercato. Dopo il crollo del Partito Socialista ho ritenuto come moltissimi altri militanti di quel partito di continuare il mio impegno in Forza Italia. Non a caso poi nella stessa compagine di governo sono stati numerosi ministri che provenivano da quell'esperienza. Grazie. 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 Grazie.